Metti al centro la periferia, perché la periferia è un valore. Le periferie sono una parte del tutto, è bene non dimenticarlo che non c'è centro senza periferie. Non c'è periferia se non c'è centro. Spettacoli, concerti, convegni e laboratori, dedicati al concetto di confine. Un percorso tutto per noi ideato e promosso da tre. Sai quante periferie a Taranto? Sai quando sono nati questi confini e qual è la loro storia? Cose includono e cose escludono. Venite a scoprirne di più, sabato 12 novembre alle ore 9, nella sede di giurisprudenza di Taranto in Via Duomo. E in serata si continua al Teatro Tata con Hamlet Travestì. Uno spettacolo della compagnia Punta Corsara che è nata e lavora a Scampia. Metti al centro la periferia, non mancate. Questa iniziativa è molto interessante perché può includere i ragazzi, non solo i ragazzi delle periferie ma anche quelli del centro, a creare un unicum per la crescita della città, comunque delle città in generale. Metti al centro la periferia, non mancare. Penso che l'iniziativa del Crest sia un'iniziativa comunque positiva, che deve attrarre un pubblico nato proprio dagli studenti. Gli studenti che sono diciamo la parte viva della città. Perciò venite sabato, mi raccomando, perché è un'occasione perfetta e geniale per accendere i riflettori e parlare insieme. Riguardo cosa? La periferia a Taranto e non solo. Metti al centro la periferia, non mancare. La periferia è un luogo di emarginazione ma comunque anche di sentimento, dove si concentra sia povertà che voglia di fare. Quindi può essere e deve essere un input per la crescita della collettività. Ragazzi vi aspettiamo al teatro, vi vogliamo numerosi.